Ci sono tantissimi posti in Friuli Venezia Giulia, ma il posto che è vicino il mio cuore ho trovato mezzo alla natura, dove troviamo un po' di pace e parliamo con natura. Io non ho mai visto così il posto bellissimo e mezzo alla natura, ho sempre cercato il posto dove noi cerchiamo la bellezza e sentiamo la natura, è sempre il posto vicino il mio cuore in Friuli Venezia Giulia, cascate dell'Arsino. C'è l'acqua crystal clear, come un po' di verde. Questo tipo di posto mi piace, di solito sempre mi piace un po' di calma, natura, sempre dentro di natura. Anche questo villaggio Friuli Venezia Giulia è un posto, è un'altra parte montagna e un'altra parte il mare. Questo mi piace, le caratteristiche di Friuli Venezia Giulia. Adesso esploriamo insieme che cosa è in questo villaggio, cascate dell'Arsino. Andiamo. E' un'altra parte. Cascate dell'Arsino. Io sono qua la mia prima volta. Arsino è un cascate in comune di Perone, 50 chilometri lontano dall'Udine. Cascate dell'Arsino è un posto, mezzo la natura, la montagna e acqua. Cascate dell'Arsino è davvero una posta bellissima dove possiamo toccare l'acqua e vedere, sentire cosa la natura dice a noi. E' un'esperienza che ho fatto, ho sentito che l'acqua, la natura e la montagna hanno parlato da me. E' anche io, parlato da loro, dove l'acqua e la natura parla con noi. E' un posto molto spirituale. Io dico la verità che I persone di Friuli Venezia Giulia sono Tanto fortunati E' una ragione Friuli Venezia Giulia Bellissima Natura E' il cuore E' un posto di Friuli Venezia Giulia E' un posto di Friuli Venezia Giulia E' un posto di Friuli Venezia Giulia